amici buongiorno vi ricordo l'evento di domani sera baia de cesari augusta domani sarò ad augusta baia de cesari ingresso 10 euro 10 euro amici con 10 euro vi passate una bellissima serata ci vediamo domani sera baia de cesari invece giorno 30 giorno 30 di luglio sarò a gaggi gaggi provincia di messina uscita autostrada giardini naxos vi aspetto a gaggi panineria a rustemo ingresso libero evento libero cioè se volete mangiare i mangiati se non volete mangiare vi godete lo spettacolo ci vediamo a gaggi giorno 30 alle ore 20 e 30 e per gli amici che hanno prenotato stasera ci vediamo ad asci catena è inutile che lo dico perché comunque mi hanno detto di mettere in locandina il soldato stasera ci vediamo per i prenotati ad asci catena per le prossime locandine